Salve a tutti, ho notato che ci sono veramente tanti commenti e siete in tanti a sostenere questo canale e allora a maggior ragione vi dico di iscrivervi perché il 70-80% di voi che guardano i video non si sono ancora iscritti e essenzialmente con l'iscrizione potete essere aggiornati sui nuovi video che stanno cercando di andare incontro alle esigenze di tutti, dai quiz della preselettiva, alle metodologie didattiche alla progettazione di un'unità didattica di apprendimento, alle problematiche relative ai BES eccetera eccetera oggi desidero parlare anche qui perché me l'avete chiesto in tanti di legislazione scolastica legislazione d'azione e di tutto ciò che essenzialmente dice la Costituzione italiana riguardo alla scuola e al diritto di studio voglio vedere se riesco a mettere un colore con maggior contrasto forse così ce l'ho fatta allora essenzialmente sapete, sappiamo tutti che la Costituzione italiana è il fondamento della nostra Repubblica e rispecchia un insieme di valori e di garanzie articolati in un quadro istituzionale che caratterizza il modo di funzionare anche delle scuole in particolare nella Carta Costituzionale nell'articolo 34 viene disciplinato il diritto di istruzione che consiste in realtà in un diritto dovere di ogni cittadino purché capace e meritevole attenzione questa in diverse declinazioni questo articolo è uscito nei vari concorsi quindi il diritto di istruzione secondo la nostra Carta Costituzionale in molti hanno risposto adesso entra proprio nel vivo del concorso hanno risposto un pochettino intuito anch'io pensavo intuito potesse essere una risposta corretta che il diritto allo studio era esteso a tutti i cittadini invece consiste in un diritto attenzione dovere prestate attenzione a questo ai cittadini capaci e meritevoli quindi si rivolge a cittadini capaci e meritevoli guardate se vi esce qualcosa del genere non dico che mi dovrete ringraziare perché di quiz domande domande anche risposta aperta me ne sono lette tante e del resto io comunque ho fatto quattro concorsi e quindi devo dire che un minimo di esperienza l'ho avuta poi ovviamente nei vari concorsi mi sono preparato io io mi sono preparato per quattro volte come state facendo adesso voi e quindi non è che sono che ho poteri speciali o capacità speciali semplicemente ho posso avere un pochettino più di esperienza rispetto magari a voi che guardate il video ed è vero io ho deciso di mettere le mie conoscenze a disposizione di tutti a volte mi chiedo perché lo faccio dato che essenzialmente non ci guadagno nulla essenzialmente credo che il desiderio di condividere con voi ciò che ha preso il desiderio di sperare in una scuola migliore in colleghi preparati bravi capaci che magari si preparino a 360 gradi al concorso non solo per vincerlo ma perché magari sono appassionati quando c'è la passione c'è l'amore per qualcosa che si fa ovviamente l'onere e la fatica magari di prepararsi in parte è ricompensata dalla piacere di fare di ritrovarsi in un contesto che ci appassiona ovviamente è un contesto faticoso anche perché nella nostra vita ci sono alti e basi che possono capitare dei periodi brutti proprio quando ci sono questi concorsi e allora dobbiamo pensare di essere sfortunati assolutamente no dobbiamo vale qui il sacrificio vale doppio a mio avviso perché coloro che magari vivono un periodo difficile riescono a prepararsi al concorso a mio avviso stanno facendo qualcosa di molto bello di molto bello per se stessi di molto bello anche a livello sociale bene e in particolare l'articolo 34 della costituzione è anche legato quindi è anche legato alla libertà dell'insegnamento questo non significa che un insegnante può dire quello che vuole ma ci sono poi le indicazioni nazionali per ogni cdc per ogni classe di concorso indicazioni nazionali e poi c'è sicuramente anche il ptof il piano dell'offerta formativa triennale dal 2015 c'è il ptof dal 1999 c'è il pof piano dell'offerta formativa che poi è stato sostituito quindi anche dal ptof l'articolo 3 quindi l'articolo 3 del 99 è stato sostituito dalla legge del 2015 e quindi scriviamo qui il ptof ricordo a tutti che sono in live vi chiedo scusa se quando scrivo non è tutto perfetto è il bello anche della diretta certo io non posso ascoltarvi non posso sentirvi istantaneamente ma con voi iscritti in particolare con voi che mi lasciate i commenti sto cominciando ad avere un confronto quotidiano poi che che altre che altre osservazioni fare ovviamente l'insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo poi gli articoli 7 e 8 articoli art scrivo art 7 e 8 della costituzione pongono attenzione al principio costituzionale della laicità dello stato laicità dello stato anche per questo quindi questo serve a porre garanzia al pluralismo confessionale per questo motivo diciamo che i studenti previa concessione autorizzazione delle famiglie possono anche evitare di seguire l'ora di religione ma lì a di massimo l'ora di religione non è un'ora a parte che gli insegnanti di religione non vengono gestiti seguono altri canali insomma non fanno il concorso esattamente come noi lì è più qualcosa che dipende dalla curia dipende da da altre da un'altra serie di insomma canali per entrare e diventare professori di religione in ogni caso lo studio e l'insegnamento della religione è l'insegnamento della storia delle religioni storia della religione quindi non è che il professore di religione in linea di massima dovrebbe convincere tutti a diventare cattolici in linea di massima dovrebbe far luce e chiarezza sulla su quello sul quanto la religione ha infuito sulla nostra storia e infuisce sul nostro presente poi il il decreto parlando oggi di legislazione e volendo porre l'attenzione sulle fonti giuridiche della scuola è importante il decreto legislativo il decreto legislativo del 297 del 1994 testo unico dell'istruzione quindi in sicuramente questo testo è importante ed è correlato anche alle disposizioni contrattuali quindi contratti collettivi nazionali CCNL e alla disciplina legislativa del pubblico impiego la legge 3 del 2001 da più poteri quindi legge 3 2001 alle amministrazioni locali anche PTOF da più poteri alla cioè col POF e PTOF si comincia a parlare della cosiddetta autonomia scolastica quindi che cosa significa che la scuola deve redigere col POF entro novembre il canale della trinale di offerta formativa che tutte le scuole tutti i licei scientifici scientifici o classici o istituti devono redigere un POF e quindi ovviamente non sono uguali quindi il liceo scientifico di Milano avrà un TOF diverso dal liceo scientifico di Roma in via Firenze e questo perché bisogna tener luogo tener conto del territorio delle esigenze territoriali dell'autonomia della scuola e quindi essenzialmente la scuola sotto un certo profilo ha una libertà di focalizzarsi su argomentazioni che ritiene di rilevanza maggiore senza nulla togliere le indicazioni nazionali che sono uguali per tutte per tutti quindi con la legge 3 del 2001 vengono conferiti più poteri poteri alle amministrazioni locali anche per non presentire troppo l'amministrazione centrale quindi per creare un decentramento no? e l'articolo questo ve lo dico a voce perché ho finito lo spazio e non voglio andare oltre la durata di 6-7 minuti perché poi magari ci può essere un calo dell'attenzione definisce i principi fondamentali con i quali lo Stato delinea le direttive generali della disciplinate dalla singola regione le norme disciplina poi questo articolo le norme generali sull'istruzione da applicarsi a livello nazionale e disciplina anche i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di istruzione garantite dal legislatore statale per quanto riguarda sia aspetti di quantità che di qualità vi faccio un esempio i requisiti professionali dei docenti le quote orarie minime delle singole materie con questo io vi ringrazio per la pazienza vi invito a mettere mi piace a condividere il materiale a iscrivervi attivare la campanella e di seguirmi alla prossima un saluto caro a tutti